La caccia continua, dice il premier francese Emmanuel Valls. Il giorno dopo la grande manifestazione di Parigi contro il terrorismo, le indagini sulle cellule jihadiste che hanno colpito la redazione del settimanale Charlie Hebdo e il supermarket Cocher di Port-Benzan si allargano e puntano su complicità e legami dei terroristi che hanno insanguinato la Francia. La ricercata numero uno è lei, Ayat Boumediene, la compagna di Amedie Koulibani, l'uomo che prima ha ucciso una poliziotta e poi ha fatto strage nel supermarket Cocher. La donna ha lasciato la Francia il 2 gennaio, ha raggiunto Madrid, da dove si è imbarcata su un volo per Istanbul. Viaggia assieme a un ragazzo che sarebbe parente di un uomo noto all'antiterrorismo francese. I due non passano inosservati, i servizi segreti turchi che avvisano i francesi li seguono per qualche giorno poi li perdono, fino a quando Ayat e il ragazzo non ricompaiono in queste immagini. L'8 gennaio sono al controllo passaporti tra la Turchia e la Siria. La ragazza potrebbe aver cercato la protezione degli uomini del califo nero al-Baghdadi. Lo stesso Koulibani aveva dichiarato di essere fedele al cosiddetto Stato islamico di al-Baghdadi. Lo aveva fatto in questo video, comparso in rete, solo ieri e per poche ore. Una circostanza che avvalorerebbe la tesi secondo la quale Koulibani avrebbe avuto almeno un complice. Secondo uno degli ostaggi del negozio Cocher, inoltre, il terrorista avrebbe avuto con sé una telecamerina e un computer. Durante l'assedio di venerdì pomeriggio, l'uomo potrebbe aver inviato filmati via mail a qualcuno, in Francia, in Siria o dove. Questo stanno cercando di scoprire gli investigatori. Secondo fonti di intelligence americane, la cellula parigina, ovvero Amedì Koulibani e i fratelli Qashì, avrebbero agito su ordine di Al-Qaeda nella penisola arabica, anche se, senza disposizioni precise, i fratelli Qashì, dopo l'addestramento nello Yemen nel 2011, si sarebbero trasformati in militanti in sonno, avendo carta bianca su tattiche o bersagli. I loro referenti di Al-Qaeda si sarebbero limitati a dare il via all'azione. Intanto, nel timore di nuovi attacchi, in tutto il paese sono state innalzate le misure di sicurezza. 8.500 militari sono stati schierati a protezione dei palazzi delle istituzioni, dei luoghi di culto, delle redazioni dei giornali. 5.000, tra poliziotti e gendarmi, proteggeranno le 717 scuole ebraiche francesi, mentre l'Europa, che ieri ha marciato compatta a Parigi, si divide ora sulle nuove misure da adottare contro il terrorismo, in particolare su una revisione dell'accordo di Schengen, quello sulla libera circolazione delle persone e delle merci all'interno dell'Unione. Lo ha proposto la Spagna, lo appoggia la Francia, mentre per i ministri italiani, Alfano e Gentiloni, Schengen è una grande conquista di libertà che non può essere regalata ai terroristi.